buongiorno dal CERN benvenuti in CMS siamo qui insieme a un po' di colleghi per presentare oggi CMS a questi ragazzi buongiorno Roberto Franco, Giuseppe so che avete preparato un po' di introduzione quindi vi lascio partire poi proseguiamo qui con le informazioni dal CERN con un giro in caverna con i nostri amici qui al CERN ok allora benvenuti questa qui è una visita reale ma virtuale nel senso che voi la vedete a distanza dell'esperimento CMS al CERN che è uno dei grandi esperimenti dell'LHC grande acceleratore che si trova al CERN di Ginevra questa visita nell'ambito del progetto arte e scienza ovviamente di cui di cui fate parte a cui siete iscritti allora oggi faremo questa visita nel modo seguente prima ci sarà Franco Ligabù professore presso la scuola normale superiore di Pisa che farà una breve introduzione sull'esperimento sul CERN poi Michele Bianco il nostro collega che è un fisico del CERN con la telecamera andrà in giro per far vedere il CERN come è l'apparato in realtà scusa se Giuseppe si interrompo sarà la nostra collega Noemi che farà il tour giù e io rimarrò qui in superficie e commenterò diciamo le immagini che Noemi ci distribuirà ok allora ringraziamo Noemi che farà questo lavoro di andare giù a mostrare l'esperimento ciao Noemi ciao ciao e poi c'è presento anche Roberto Dell'Orso ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e io ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quindi a questo punto passerei la parola a Franco per questa breve introduzione grazie Giuseppe allora vediamo se riesco a fare sharing del schermo in realtà l'introduzione mia è sull'esperimento più che sul scusa Franco se ti interrompo un attimo per chi volesse fare domande c'è un tasto nella pagina di Zoom Q&A quindi siete invitati a scrivere la questione noi proveremo a rispondervi sia testualmente che nel caso di domande particolarmente interessanti anche a voce ok grazie allora dicevo l'introduzione è sull'esperimento non tanto sul CERN è sull'accelerazione su LHC e su CMS cercherò di essere più breve possibile allora che cos'è LHC sta per Large Hadron Collider vedete lo schermo giusto? si vede? si si vediamo allora vuol dire è un collisore di Hadron sarebbero Hadroni cioè in realtà di protoni quasi sempre d'accordo può anche fare colliderate particelle ma insomma per la maggior parte del tempo fa collideri protoni che sono accelerati nei due sensi di marcia circolano nei due sensi di marcia in questo anello sotterraneo e che vengono mantenuti in orbita da capi magnetici molto forti generati da magneti superconduttori questo questo anello in cui è situato il l'acceleratore è in media a 100 metri di profondità nella regione diciamo vicino a Ginevra a cavallo tra le confine tra Francia e Svizzera disposti lungo questo anello che ha 27 chilometri di circonferenza ci sono quattro grandi sistemi grandi apparati di rivelazione che sono nei punti in cui questi fasci di protoni che circolano nei due sensi di marcia vengono fatti collidere e questi esperimenti hanno lo scopo di guardare essenzialmente cosa succede quando questi protoni collidono per studiare tutto ciò che si può studiare da queste collisioni allora qui è un brevemente adesso non vado non entro nei numeri è una trasparenza con dei numeri che servono essenzialmente per impressionare il pubblico fa vedere essenzialmente come funziona la catena diciamo che attraversano i protoni da quando vengono prodotti a quando vengono immessi nell'acceleratore e la cosa che farei notare a parte tutti questi numeri che fanno vedere che si tratta di cose molto impressionanti di cose screen ok prima se guardate il screen vedete il tempo che Allora, dicevo, in realtà qua quello che farei notare è semplicemente questo fatto che in questo schemino si vede che questi cerchietti qua, che sono in realtà dei cerchi molto grandi, che sono PS, SPS, sono in realtà dei tunnel che erano stati usati in passato per ospitare altri acceleratori, che sono stati usati in passato per fare scoperte precedenti negli anni e anche in misura di fisica. Questo schemino fa notare che in realtà questi vecchi acceleratori non sono buttati via, ma vengono usati come semplicemente rampi di lancio per i protoni, per essere immessi nell'acceleratore più grande usato adesso. Questa trasparenza invece vi fa vedere qual è, anche qui non ci voglio insistere, è uno schemino che riassume quali sono le particelle fondamentali, secondo la teoria che abbiamo adesso, molto di successo che è il schema dello standard, semplicemente fa vedere che esistono un certo numero di particelle che riteniamo fondamentali, cioè non è disponibile da nessun altro oggetto, che sono quelle che vogliamo studiare. Come si studiano? Si studiano facendo collidere i protoni e anche qui non voglio andare nella fisica, quello che succede è che i protoni si scontrano, i protoni si scontrano, si frammentano, fanno un sacco di altre particelle, queste particelle escono dalla collisione in questo modo, questa è effettivamente una foto, tra virgolette, di una collisione, e andando a studiare questi frammenti di collisione, che sono particelle cariche o neutre di vario tipo, si riesce a avere informazioni su che cosa è successo. E per esempio, questo è una delle collisioni che è stata usata per la famosa scoperta del botone Giggs, è venuta dieci anni fa, un po' più di dieci anni fa, che cos'è, ora verrà descritto in dettaglio, ma che cos'è CMS? CMS è uno di questi grandi apparati di rivelazione e è una struttura fatta a cipolla, a strati, e i vari strati sono essenzialmente, diciamo, il tutto, di solito viene paragonato a una gigantesca macchina fotografica pixel, che cerca di fotografare le singole collisioni, o perlomeno le collisioni più interessanti in realtà, non tutte. Questa trasparenza vi fa vedere una fetta di questo cilindro, poi vi avrà spiegato dopo, la struttura di CMS rivelatore è fatta a cilindro, i fasci, cioè i protoni, collidono, diciamo, lungo l'asse del cilindro, al centro avviene la collisione e queste particelle che escono si dipartono dal centro e attraversano tutto questo apparato. Questa è una fetta, diciamo, come se fosse un salame, il cilindro viene tagliato, e poi questo è uno spicchio di una fetta, d'accordo, che vi fa vedere, serve per farvi vedere che in realtà questi strati hanno lo scopo di individuare i vari tipi di particelle, perché i vari tipi di particelle interagiscono con i rivellatori in modi diversi e quindi il rivellatore è fatto in modo da distinguere i vari tipi. Dicevamo prima che una buona metafora potrebbe essere che questa macchina fotografica è una macchina fotografica che distingue i colori e quindi riesce, è una macchina a colori, quindi riesce a capire se una particella è rossa, blu o verde e qua c'è, ad esempio, in realtà appunto vuol dire i tipi di particelle, ad esempio una particella che si chiama muone fa questo tipo di percorso nel rivelatore, cioè lo attraversa tutto e quindi il fatto che lo attraversa tutto ci fa capire che tipo di particella è. Altri tipi di particelle, tipo elettroni, invece si fermano prima, si fermano in una regione più interna che è fatta apposta per fermare gli elettroni, altre particelle di altro tipo si fanno altre cose, adroni carichi, appunto tipo i protoni, si fermano in un altro strato intermedio, eccetera, da quando vi verrà detto e se avete domande ve lo diciamo, adesso era solo una cosa molto veloce per farvi vedere qual è lo scopo di questi vari strati. Fermare o distinguere vari tipi di particelle che ci possano permettere di capire che cosa è successo nella collisione. Vabbè, io mi fermerai qui, se va bene agli altri, e fare vedere la cosa vera che è meglio di... Ok, grazie Franco. Quindi a questo punto passerei la palla al CERN per la visita virtuale. devi abilitare il volume. Michele, non ti senti. Ok, mi sentite adesso? Sì, sì, benissimo. Perfetto, ok, grazie Franco. Avete altre presentazioni, altre introduzioni per i ragazzi? No, no, va bene così, andate voi. Ok, allora a questo punto iniziamo un attimo a descrivere come lavoriamo qui al CERN come l'esperimento CMS è costituito e come coordiniamo e controlliamo l'esperimento. L'introduzione ha ben descritto correttamente e parlato di una macchina fotografica e infatti questo è quello che gli esperimenti su LHC sono. Sono dei grandi apparati che fotografano il momento in cui le collisioni avvengono e cercano di identificare i prodotti delle collisioni. Quello che hanno poi di particolare queste macchine fotografiche in realtà è la loro velocità. Noi ormai siamo tutti abituati ad avere il nostro cellulare in mano e sono delle macchine che riescono a fotografare. Intanto vedo che Noemi si sta avvicinando all'ingresso della caverna mi fermo un attimo vi spiego questo passo Noemi sta appoggiando il suo badge l'accesso in caverna è controllato in doppio sistema con un sistema di badge di registrazione e con uno scan dell'iride tutte le persone che sono abilitate ad andare nella zona sperimentale hanno in qualche modo depositato i loro dati biometrici dell'iride in un database e i nostri occhi sono fotografati all'ingresso attraverso una fotocamera particolare e se le persone sono registrate nell'opportuno database e parallelamente hanno conseguito tutte le abilitazioni ci sono diversi corsi di sicurezza e diverse procedure per essere abilitati a scendere in caverna se tutte queste condizioni sono soddisfatte l'iride viene identificato e la porta si apre e permette le persone i tecnici i fisici gli ingegneri di accedere nella zona sperimentale quello che sta inquadrando in questo momento Noemi è l'ascensore che come avete visto era nel piano meno 2 circa meno 90 metri la base di CMS è a meno 97 nel livello meno 3 adesso l'ascensore sta arrivando in superficie impiega circa un minuto per percorrere questi 100 metri in altezza equivalente di un palazzo di oltre 30 piani un ascensore molto molto rapido in circa 50 secondi un minuto permette di portare le persone o il materiale in caverna in superficie Noemi entrerà adesso nell'ascensore e ci condurrà in meno 2 nel livello in una caverna parallela oggi non possiamo entrare nella caverna sperimentale perché l'acceleratore sta dando fisica producendo collisioni in realtà proprio oggi c'è un piccolo break ma comunque non si può entrare nella caverna sperimentale visiteremo insieme la caverna parallela quella che chiamiamo la caverna dei servizi dove sono installate tutte le attrezzature e tutti i sistemi adesso spero che col mouse siate in grado di seguirmi la caverna sperimentale che contiene l'esperimento CMS è questa zona che noi chiamiamo UXC55 UX sta per Underground Experimental Cavern e accanto a questa grande caverna ce n'è una seconda caverna un po' più lunga ma un po' più sottile che contiene tutti gli strumenti di REC per raccogliere i dati che vengono generati dall'esperimento per propagare il sistema di potenza e di controllo o di cooling di gas l'esperimento CMS è un oggetto molto molto complesso che ha bisogno di diversi servizi per poter funzionare abbiamo rivelatori a gas quindi dobbiamo distribuire la corretta miscela di gas per ogni rivelatore che usa il il gas dobbiamo distribuire la potenza alte tensioni basse tensioni ecco Noemi sta uscendo dall'ascensore si sta fermando accanto a quello che noi chiamiamo il condotto più piccolo lo shaft più piccolino che è un altro condotto dove caliamo o tiriamo su dei componenti dell'esperimento ne abbiamo un altro più grande in questo momento io mi trovo esattamente sulla bocca del condotto principale che ha permesso negli anni passati di calare di portare giù pezzo per pezzo l'esperimento CMS e circa il doppio di questa di questa apertura ha permesso di far andare giù in caverna questi grandi fette di questo grande cilindro che poco fa veniva spiegato la porta in cemento in basso che vedete è una parete mobile che in questo momento è chiusa e al di là di questa parete in questo momento c'è l'esperimento CMS che appunto è impresa dati in questo periodo alle spalle di Noemi se può ruotare un attimino grazie Noemi potete vedere una serie di foto ci piace mostrarle perché in qualche modo riassumono la storia di CMS dalla costruzione da quando abbiamo iniziato a scavare l'esperimento e fino alla fase di completamento e del commissioning della messa in funzione dell'esperimento tutto è iniziato circa 25 anni fa ormai con l'escavazione della caverna da zero e anche questo è stato molto complicato challenging dal punto di vista ingegneristico perché la zona in cui ci troviamo è una roccia molto friabile è molto franosa e ha richiesto anche il congelamento della falda acquifera per poter scavare in sicurezza e poi ecco da queste foto si vede il momento in cui pezzo per pezzo questo cilindro che è composto da 15 fette 5 fette centrali e 5 fette di chiusura per entrambi i lati dell'esperimento pezzo per pezzo fetta per fetta è stato calato in caverna il peso di CMS è di circa 16.000 tonnellate e la la fetta il pezzo più pesante supera le 2.000 tonnellate quindi è stato creato è stato preparato un sistema di di argani dedicato per permettere di portare giù a 100 metri in sicurezza l'esperimento con dei margini manovra molto molto limitati l'esperimento è stato costruito in superficie adesso Zoltan ci sta inquadrando la hall dove ci troviamo è stato ecco questa è la quella che noi chiamiamo SX5 la hall in superficie dove CMS è stato preparato slice per slice fettina per fettina e poi è stato trasportato qui dove mi trovo io e Zoltan in questo momento su questo grande shaft in questo momento è chiuso noi ci troviamo su una piattaforma in cemento che scivola su dei binari in circa mezz'ora si può aprire questa piattaforma e sotto di noi c'è questo condotto di circa 100 metri di profondità che accede direttamente alla caverna sperimentale la la piattaforma l'apriamo tutti gli anni durante il periodo invernale durante quello che chiamiamo l'extended l'IETS per permettere di calare nuovi strumenti o tirar su parti dell'esperimento adesso Noemi sta camminando in quella che noi identifichiamo come ESTU è una caverna una di queste caverne parallele potete vedere una serie di REC ne abbiamo alcune centinaia con l'elettronica necessaria per l'acquisizione dei dati che vengono prodotti all'esperimento fibre le ottiche sistemi di di controllo tutti i cavi come vedete sono uno ad uno in qualche modo marchiati labbellati è fondamentale avere costantemente conoscenza precisa dei cavi per per avere il controllo e la manutenzione del cavo stesso nel caso di rotture e sapere dove intervenire vedo che c'è una domanda qualcuno ha mai passato le misure di sicurezza entrando in caverna se sì come è successo allora non può si può fare un bypass delle misure di sicurezza in accesso queste vengono controllate dal coordinamento tecnico dell'esperimento dal coordinamento di sicurezza a volte abbiamo delle visite anche ai studenti che vengono qui specialmente durante il periodo invernale o durante il periodo di pausa della presa dati e accedono direttamente in caverna quindi gli studenti per esempio non sono nel database con lo scan dell'iride ovviamente e non hanno il training per le sicurezze e gli studenti vengono fatti accedere attraverso una porta laterale che è dedicata questo passaggio è dedicato al materiale minuto non quello grande che passa attraverso gli shaft e le persone studenti o a volte anche personalità abbiamo ministri che vengono a vedere l'esperimento vengono fatti a passare attraverso questa porta non è possibile bypassare a meno di intenzioni diciamo di cattive intenzioni il sistema di screening dell'iride e di accesso e abbiamo una serie anche di telecamere di controllo continuo che monitorano i punti di accesso sia del materiale che delle persone in questo momento Noemi sta facendo vedere uno spaccato dei servizi sotto i rack come vedete ci sono chilometri e chilometri di cavi che congiungono la caverna dei servizi alla caverna sperimentale e questi cavi rossi per esempio sono cavi di attenzione ogni cavo ha un suo colore specifico perché identifica il tipo di servizio che è di servizio appunto di strumentazione che sta alimentando che sta monitorando blu per i segnali rossi per l'alta avvenzione arancione per dei sistemi di potenza che non sono mai interrotti anche in caso di power cut leggevo la domanda perché l'esperimento è a circa 100 metri LHC come è stato detto è un po' la prosecuzione di una serie di altri acceleratori il PS che sono stati costruiti negli anni passati che erano già in profondità perché comunque la zona di Ginevra ormai è una zona piuttosto urbanizzata quindi creare una struttura circolare di 100 metri sarebbe anche un problema quindi si va in profondità e questo permette di avere è più oneroso dal punto di vista della costruzione ma permette di costruire l'acceleratore diciamo senza impattare sulla vita delle persone un acceleratore simile un po' più piccolo al Tevatron negli Stati Uniti in effetti è un acceleratore che è pressoché in superficie l'essere in profondità diciamo ha un altro piccolo vantaggio in qualche modo ci scherma dal dal background cosmico dal raggi cosmici che ogni ogni momento ogni secondo arrivano sulle sulle nostre teste e in qualche modo potrebbero simulare delle particelle delle collisioni in caverna vedo che Noemi è arrivata davanti a un'altra porta gialla una seconda porta anche questa monitorata costantemente con un sistema di screening dell'iride e ecco lei sta inquadrando la macchina che solitamente va a fare la foto dei nostri occhi e riconoscere le persone e in questo momento abbiamo il sistema non si può accedere la caverna è chiusa per ragioni di sicurezza di radiazione perché la macchina l'acceleratore è in fase di collisioni e quindi non è possibile assolutamente accedere in caverna vedete una maniglia verde sulla porta quella maniglia è anche una maniglia di sicurezza se qualcuno provasse ad accedere in caverna potrebbe farlo forzando quella maniglia e quello è un interlock che è connesso con l'acceleratore dell'HC nel momento in cui qualcuno forzasse quella maniglia automaticamente la macchina l'HC fermerebbe i fasci come diciamo noi damperebbe spedirebbe fuori dall'acceleratore su un volume particolare di grafite e cemento le particelle andrebbero a schiantarsi contro questo damp e per ragioni di sicurezza appunto la macchina verrebbe fermata perché qualcuno sta accedendo starebbe accedendo alla caverna in condizioni di non sicurezza con la macchina rannante ci sono anche una serie di chiavi sul sul lato della porta e quelle appunto sono delle chiavi che quando siamo in fase di presa dati diciamo con macchina ferma ma in fase di presa dati durante le acquisizioni che vanno da aprile a natale solitamente l'accesso in caverna per l'accesso in caverna non è sufficiente lo screening dell'iride ma è necessario prendere una chiave da queste cassettine orizzontali che si vedono inquadrate infilare la chiave nell'opportuna fessura e abilitare la porta all'accesso il sistema LHC non ripartirà mai a dare collisione fin quando tutte le chiavi non sono state riposizionate nelle apposite fessure e questo accesso dalla caverna all'incirca 7 metri di distanza la caverna le due caverne la caverna sperimentale e la caverna dei servizi sono separate da un muro di circa 7 metri di spessore e questo qui che in questa figura Zoltan sta trasmettendo la figura è definito come il pilier e ci sono dei condotti tra questi 7 metri di cemento che permettono ai cavi ai tubi di gas ai pipe ai tubi di raffreddamento che possono essere di acqua o noi abbiamo anche un raffreddamento CO2 liquido evaporazione sono tutti trasferiti attraverso dei condotti dedicati attraverso questo muro di 7 metri nonostante noi abbiamo un muro così spesso il campo magnetico ecco Noemi sta inquadrando una graffetta di quelle che usiamo per fermare fogli nonostante noi abbiamo questo muro così spesso il campo magnetico generato dal solenoide dal grande solenoide all'interno del CMS è così intenso all'interno del solenoide raggiungiamo i 3,8 Tesla ma nonostante ci siano quei 7 metri a questa distanza comunque la forza di attrazione del magnete in qualche modo ecco ha un effetto diretto sul materiale che noi portiamo nelle vicinanze e materiali così leggeri vengono attratte anche a distanze di diversi metri ecco l'effetto bussola se vogliamo dell'acqua della bussola di orientazione della graffetta dovuto alla solenoide che si trova appunto oltre un muro di 7 metri a una distanza siamo circa a una 15-20 metri di distanza rispetto a dove Noemi si trova in questo momento e questa è anche la ragione per cui durante quando il magnete è acceso l'accesso in caverna non è possibile a tutte le persone perché in caso di pacemaker o portatori di strumentazione medica potrebbero esserci gravissimi rischi per le persone quindi la caverna a volte è aperta con campo magnetico ma accessibile soltanto a determinate persone e e anche non è diciamo suggerito entrare in caverna con magari una carta di credito perché il campo magnetico potrebbe facilmente smagnetizzare una carta di credito o strumenti di questo tipo ecco la ancora Noemi ci sta facendo vedere l'effetto del campo magnetico queste sono proprio le curve del campo magnetico che si richiude sul solenoide e quindi questa catenella di graffette segue le linee di campo che si propagano anche nella caverna sperimentale dalla caverna sperimentale verso la caverna dei servizi accanto a questa caverna accanto a questa zona c'è un'altra room che è definita la gas room abbiamo un sistema di distribuzione dei gas partono dalla superficie da un un edificio dedicato che provvede alla generazione di delle corrette miscele di gas e poi in caverna in caverna parallela in questa caverna di servizi abbiamo un'area dedicata dove tutte le miscele vengono convogliate e poi distribuite all'esperimento questa è un'immagine che abbiamo giù questo non è veramente le cellule d'HC è semplicemente un'immagine ma ecco se avrete la possibilità vi invitiamo a venire caldamente magari nei prossimi mesi o durante il periodo invernale quando la macchina non funziona e quindi potete accendere facilmente all'area sperimentale avrete la possibilità anche magari di fare un selfie immaginando di essere nell'acceleratore dell'HC le persone che vengono a trovarci qui a CMS a point five chiamiamo point five perché sull'acceleratore dell'HC abbiamo otto punti di accesso quello di CMS è il punto 5 possono accedere nell'area sperimentale di CMS ma non nella caverna ma non nella galleria dell'esperimento perché è stato scelto costruire in un'area molto popolata questo aumentato tanto i costi non tantissimo i costi ma allora il CERN compierà l'anno prossimo 70 anni ufficialmente il memorandum di agreement per la fondazione del CERN è stato firmato nel 1954 e all'epoca si la Svizzera in qualche modo donò alla comunità scientifica una frazione del suo territorio al margine della del confine tra Francia e Svizzera in un'area che all'epoca era pressoché campagna e le installazioni necessarie o in grado di essere realizzate 70 anni fa erano contenute in pochi edifici di una dimensione di alcune centinaia di metri quindi questi diversi ettari di terreno donati dalla Svizzera furono più che sufficienti e abbondanti per il progetto iniziale con gli anni con i decenni che sono passati la tecnologia è cresciuta enormemente siamo passati da acceleratori del raggio di alcune decine di metri a un acceleratore LHC che ha una circonferenza di 27 km quindi c'è stato nel tempo anche l'idea di costruire macchine acceleratrici in altri luoghi ma accelerare le particelle e inserirle in un acceleratore come quello dell'HC richiedono comunque delle fasi di accelerazione preventiva se vogliamo per iniettare le particelle nell'acceleratore e i vecchi acceleratori che sono stati costruiti negli anni 50 60 70 l'SPS l'acceleratore che da noi è abbastanza famoso perché ha dato la possibilità a Rubbia di prendere di vincere il premio Nobel con la scoperta delle particelle W e Z servono oggi come iniettori come stage preliminari per accelerare le particelle che poi vengono iniettate nel grande l'acceleratore dell'HC quindi aver costruito l'HC qui è stata la conseguenza naturale se vogliamo di una evoluzione della fisica delle particelle al CERN oggi abbiamo in progetto il CERN sta pensando di costruire un ulteriore acceleratore ancora più grande di una circonferenza di circa 100 km e LHC in questo caso servirà o quantomeno il tunnel di LHC risolveremo quella tecnologia negli anni futuri come iniettore per questo future collider di circa 100 km di circonferenza costruire un sistema richiederebbe aree molto grandi e anche un'infrastruttura una tecnologia che qui al CERN è già presente che quindi non dobbiamo duplicare e questo in qualche modo contiene i costi perché andiamo a tenere quello che già abbiamo in loco adesso ci sta facendo vedere quella che chiamiamo la cold box è la parte di elio liquida il magnete il solenoide centrale di CMS è un magnete superconduttore superconduttore perché permette di generare altissimi campi magnetici con correnti con consumi relativamente bassi noi abbiamo 18.000 ampere che fluiscono all'interno del solenoide costantemente per avere il il magnete generante un campo magnetico di 3,8 tesla un'altra domanda vedo 70 anni fa non c'è una emissione di sicurezza di oggi in passato sono mai accaduti gravi incidenti sul lavoro fortunatamente allora le misure di sicurezza sono sempre crescono di pari passo con le difficoltà e con le complessità degli esperimenti 70 anni fa sicuramente non c'erano le misure di prevenzione e protezione che abbiamo oggi ma anche gli esperimenti e l'energia o le problematiche generate dagli acciatori che abbiamo usato in passato erano molto minori al CERN uno dei nostri motti è safety first prima di tutto abbiamo come obiettivo la sicurezza poi la qualità e per ultimo la schedula noi abbiamo delle milestone dei piani pluriannali che dobbiamo rispettare perché ci sono grandissimi investimenti economici delle comunità scientifiche mondiali ma il primo obiettivo per noi non è mantenere la schedula il primo obiettivo per noi è la sicurezza del personale prima di tutto in secondo luogo la sicurezza dell'infrastruttura stessa perché è il nostro value è quello che ci permette di fare ricerca quindi sicurezza delle persone sicurezza dell'infrastruttura qualità nel lavoro nello sviluppo del lavoro nella costruzione delle infrastrutture e poi in terza battuta la SER seguendo questo mantra questi concetti base al CERN non ci sono mai stati incidenti gravi dovuti diciamo all'operazione dell'acceleratore ci sono stati sfortunatamente altri incidenti ma sono di natura diciamo logistica infrastrutturale costruzioni di building e cose di questo tipo a mia conoscenza c'è stato soltanto un incidente mortale durante la costruzione di un esperimento ma niente a che federe niente a che fare con la sicurezza intrinseca dell'operazione degli acceleratori delle particelle o degli esperimenti stessi la sicurezza al CERN è veramente ad altissimi livelli gli accessi come avete visto sono controllati in modo molto ristretto Noemi si è spostata al piano meno uno che è a meno 82 metri adesso verrà in superficie e uscirà di nuovo vado avanti un attimo descrivendovi il lavoro qui al CERN come vi ho detto qui a point five il punto di collisione uno dei quattro punti di collisione dell'acceleratore dell'HC abbiamo quattro punti dove i fasci collidono qui in CMS a 180 gradi sulla circonferenza nel lato opposto alla circonferenza noi c'è un esperimento che in qualche modo è il gemello di CMS il fratello concorrente se vogliamo che si chiama Atlas e ha lo stesso obiettivo di fare la stessa tipo di misure di fisica di CMS sono due esperimenti molto simili come concetto ma utilizzano tecnologie e approcci leggermente differenti e sono fondamentali uno per l'altro perché quando facciamo delle misure per dichiarare una scoperta abbiamo bisogno che entrambi gli esperimenti abbiano osservato la stessa fenomenologia di evento altrimenti un singolo esperimento non è sufficiente a darci la certezza che effettivamente abbiamo scoperto una particella nuova un nuovo effetto potrebbe essere semplicemente un errore nel disegno dell'esperimento un errore nella presa dati un errore nell'analisi Noemi si sta avvicinando a quello che è un mocap un grazioso modellino dell'esperimento questo cilindro che abbiamo detto essere diviso in 15 fette 5 centrali e 5 laterali su ogni lato vedete queste luci che si stanno accendendo questo che si sta accendendo adesso è il solenoide all'interno del quale sono contenuti ecco il tracker i pixel di silicio che è il cuore se pensiamo all'esperimento come una grande cipolla fatta in antistrati il primo strato sono il tracker che permette le misure di precisione poi abbiamo i calorimetri elettromagnetici e i calorimetri adronici che sono in giallo in questa figura ecco grazie Zoltan che ci sta facendo un po' lo sharing delle varie immagini e andando fuori da questa cipolla si esce poi dal solenoide tracker e calorimetri sono contenuti nel solenoide all'esterno abbiamo le camere a muoni i muoni sono i fratelli maggiori se vogliamo dell'elettrone perché hanno gli stessi numeri quantici ma hanno una massa molto maggiore queste particelle sono in grado di attraversare i strati centrali dell'esperimento e sono poi rivelate ecco da da questa da queste camere in con questi segmenti blu all'esterno del solenoide e andando a formare una matrice se vogliamo di di rivelazione siamo in grado a seconda di quale rivelatore viene irradiato e illuminato e acceso e produce un risultato siamo capaci di distinguere tra i diversi tipi di particelle che si formano che si generano durante le collisioni elettroni muoni adroni fotoni e anche la loro carica perché la curvatura nel caso di particelle cariche la loro curvatura nel campo magnetico ci indica se hanno una carica positiva o una carica negativa quindi tutti questi rivelatori in maniera sequenziale posti uno dietro l'altro con caratteristiche diverse alla fine ci permettono di discriminare tra un elettrone piuttosto che un positrone saranno due particelle che avranno tracce simili ma curvature diverse nel magnete tra un protone che sarà identificato nel calorimetro adronico e un elettrone che viene invece fermato identificato nel calorimetro elettromagnetico e così via vi faccio vedere adesso visto che abbiamo parlato tanto a Noemi intanto si sta avvicinando verso la control room quindi diamo ancora qualche minuto a Noemi tutto l'esperimento CMS abbiamo visto in caverna questi centinaia di crate di rack che contengono elettronica sono controllati da una costantemente 24 ore al giorno 7 giorni su 7 da una da alcune postazioni in quella che la control room la sala di controllo dell'esperimento CMS Noemi può avanzare ok she is moving da colleghi tutti quanti noi abbiamo tra i nostri task tra i nostri compiti dedicare alcuni giorni l'anno che possono essere di notte di mattina fine settimana piuttosto che giorni feriali al controllo e alla validazione della presa dati abbiamo questa appunto la sala di controllo dove costantemente abbiamo almeno due persone almeno ma spesso come in questo momento molte di più due esperti uno che fondamentalmente tiene controllo della parte tecnica dell'esperimento quindi i servizi se tutto sta procedendo bene nell'alimentazione se ci sono allarmi magari per fughe di gas allarmi per leak del cooling del sistema di raffreddamento questa è la postazione del technical shifter appunto il controllo tecnico dell'esperimento e abbiamo un'altra posizione dove c'è lo shift leader che è la persona che è in costante contatto con gli esperti dei vari sottorivelatori in questo momento non abbiamo preso dati quindi lo shift leader oggi è la ragazza con la maglietta gialla sta comunque discutendo con i colleghi sulle varie performance dell'esperimento per esempio in questo momento stanno parlando del trigger ecco un altro collega italiano oggi in control room che sta diciamo tenendo il suo turno di presa dati e come detto prima è un lavoro un nostro compito che noi facciamo sette giorni una settimana 24 ore su 24 in turni da otto ore ed è fondamentale per la qualità della presa e della qualità dei dati che prendiamo questo è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è fare fisica c'è una parte ingegneristica c'è una parte di costruzione che è molto bella ma lo scopo per cui facciamo tutto quanto questo è capire la fisica delle particelle elementari e il nostro prodotto se vogliamo deriva dalla qualità dei dati che riusciamo a prendere e quando l'acceleratore è in funzione mediamente da marzo a dicembre di ogni anno poi nei mesi successivi nei mesi tra dicembre e marzo facciamo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esperimento durante la presa dati abbiamo sempre costantemente le persone in control room giorno e notte per verificare che tutto proceda come ci aspettiamo che l'acceleratore sia nelle condizioni migliori quando viene rivelato un problema magari su un sottosistema immediatamente lo shift leader o il technical shifter comunicano chiamano l'esperto del sottosistema si cerca di intervenire da remoto se è possibile farlo oppure a seconda della gravità del problema se è un problema minore si attende la prima opportunità di accesso solitamente l'HC almeno una volta a settimana l'acceleratore si ferma alcune ore per permettere anche ai macchinisti noi chiamiamo la macchina l'acceleratore di fare dei lavori di manutenzione quindi abbiamo solitamente alcune ore ogni settimana di accesso programmato se l'esperimento dovesse incontrare dei problemi minori si chiede l'accesso alla caverna durante questi accessi programmati in caso di problemi più grandi che hanno un impatto estremo sulla qualità dei dati che renderebbero magari inutilizzabili i dati se abbiamo un problema su un sistema di potenza che sta alimentando una grossa frazione dell'esperimento e dovesse appunto andare giù rompersi e questo implicherebbe perdere dati o la qualità dei dati andrebbe veramente giù comunichiamo con la con la control room dell'acceleratore che non dobbiamo confondere con la control room dell'esperimento comunichiamo con la control room dell'acceleratore e cerchiamo di pianificare un accesso urgente per rimettere in sesto per riparare per modificare quello che è necessario perché di nuovo l'obiettivo è avere dati con la più alta qualità possibile adesso non sono emista ancora appunto facendo tutte le varie persone che vedete sedute in questo momento nella control room sono i vari esperti che giornalmente almeno durante le ore diciamo standard di lavoro lavorano in control room mentre il technology a shift e lo shift leader sono presenti a 24 abbiamo una piccola area di ristoro perché ovviamente il caffè serve sempre specialmente durante i turni notturni e qui Noemi sta adesso andando fuori nell'area esterna all'esperimento in questo momento il punto 5 point 5 dove CMS si trova è anche un grande cantiere perché stiamo lavorando in previsione di quella che è detta phase 2 la fase 2 dell'acceleratore dell'HC l'HC ha iniziato a dare collisioni in maniera stabile dal 2010 2011 e dal 2028 c'è un piano per aumentare la luminosità ovvero il numero di collisioni che l'acceleratore potrà dare agli esperimenti dal 2028 e tutto questo richiede una serie di upgrade non solo della macchina acceleratrice dell'acceleratore ma anche degli esperimenti quindi in questo momento abbiamo una serie di di lavori stiamo costruendo una nuova control room qui a point 5 stiamo costruendo nuovi edifici quindi è tutto un po' non caotico perché c'è un piano di evoluzione programmato con gli spazi le tempistiche necessarie ma appunto è un po' diciamo è evidente per chi viene a trovarci qui sul posto che siamo anche un cantiere in evoluzione tutti questi massi massi tutti questi blocchi arancioni sono un'altra parte un pezzo di upgrade sono uno shielding uno schermo per la radiazione di nuovo poiché la macchina l'acceleratore sta dando sempre maggiore numero di collisioni più grandi luminosità la radiazione che viene prodotta all'esterno dell'esperimento e ai limiti dell'esperimento è sempre più alta e abbiamo la necessità di schermare alcuni punti dell'apparato sperimentale di CMS e della parte finale dell'acceleratore che arriva su CMS questi sono dei blocchi che ci sono arrivati poche settimane fa li abbiamo appena riempiti di cemento e verranno calati giù e posizionati nelle opportune posizioni il prossimo inverno durante quello che chiamiamo lo IETS lo stop invernale durante il periodo in cui facciamo la manipolazione ordinaria e straordinaria il suolo questa piattaforma dove mi trovo in questo momento verrà fatta scivolare e questi grandi oggetti verranno calati e posizionati in caverna visto che abbiamo parlato molto del sistema degli acceleratori vi faccio vedere un attimo uno schermo un piccolo giochino che abbiamo realizzato qui a Poinfo per spiegare il concetto dell'acceleratore questa immagine questo grande pannello è la figura aerea della zona dove il CERN si trova qui in basso c'è il il CERN il cosiddetto CERN di Meren dove il CERN è nato abbiamo parlato prima della prima parte quando la Svizzera ha donato la comunità scientifica un'area era questa piccola frazione qui scorre il vecchio passo il vecchio confine Francia-Svizzera e se venite a trovarci ci sono ancora i cippi miliari del confine tra Francia-Svizzera in questo in questo punto il CERN appunto aveva i primi acceleratori in questa zona poche decine di metri di diametro poi si è esteso e alla fine è andato fuori fino a raggiungere adesso vi farò vedere l'anello SPS poi si illuminerà anche l'anello LHC e noi usiamo i vecchi acceleratori come stadi di iniezione per l'acceleratore LHC tutto parte da una bombola di idrogeno oggi fondamentalmente l'idrogeno ha il protone ed elettrone strippiamo strappiamo via dall'idrogeno e c'è un piccolo acceleratore lineare che inizia a accelerare le particelle e poi vengono iniettati nell'acceleratore circolare ecco si parte nel PS si poi dal PS le particelle i protoni vengono iniettate nell'SPS che è tuttora un acceleratore funzionante l'acceleratore dove Rubia ha installato l'esperimento UA1 che ha portato al Nobel e dall'SPS quando le particelle raggiungono la corretta energia vengono iniettate in LHC che è questa grande circonferenza questo grande acceleratore e noi siamo all'estremo rispetto a MES e a un certo punto quando i fasci hanno raggiunto i pacchetti particelle accelerate hanno raggiunto le corrette condizioni le facciamo collidere e le collisioni qui sono rappresentate da questi da questi splash gialli e blu ovviamente i pacchetti di protoni che contengono centinaia di miliardi di protoni collidendo il numero di protoni si decade in qualche modo si riduce e questo fa ridurre quella che noi chiamiamo la luminosità ovvero il numero di collisioni per secondo quindi cosa facciamo a cicli regolari quando tutto è in ordine un ciclo di un fil una fase di accelerazione di collisione dura circa 10 ore dopo circa 10 ore quando il numero di protoni è calato la luminosità di conseguenza il numero di collisioni è calata fermiamo il fascio di nuovo lo dampiamo lo estraiamo dall'acceleratore e ricominciamo si rinietta e si ricomincia così continuamente per per l'acquisizione dei dati io penso di avervi detto abbastanza non so adesso se ci sono altre domande se vogliamo interagire se volete chiedere qualcosa siamo siamo qui ancora per un po' si ricordo se ci sono domande scrivetele attraverso il tasto Q&A sulla pagina di zoom quanto è costata la struttura ecco bisogna un po' capirsi su cosa è la struttura perché non dobbiamo confondere appunto l'acceleratore con gli esperimenti l'acceleratore è un progetto CERN gli esperimenti sono collaborazioni internazionali anche il CERN è una collaborazione internazionale ma l'acceleratore è un progetto del CERN e LHC credo non voglio adesso dare un numero ma dovrebbe essere costato intorno ai 4,5 miliardi di euro su un progetto che dura alla fine durerà oltre 40 anni ed è una collaborazione mondiale il CERN ci sono dei paesi membri dei paesi associati quindi c'è un costo che può apparire elevato non stiamo certamente parlando di poche centinaia di euro l'acceleratore stesso appunto sono oltre 4,5 di euro ma se lo spalmiamo su una durata di di 40 anni è suddiviso su una collaborazione che è veramente mondiale i costi sono veramente contenuti adesso non voglio fare paragoni con quello che purtroppo sta accadendo in quest'anno per esempio in Ucraina e Russia ma probabilmente un giorno un giorno di guerra costa molto di più di quanto in 40 anni verrà speso qui al CERN perché l'acceleratore è spento d'inverno perché la corrente costa di più noi siamo grossi consumatori di di elettricità e i magneti sono ormai quasi tutti superconduttori LHC un acceleratore superconduttore e questo ci fa risparmiare corrente ma comunque i consumi energetici sono veramente notevoli siccome in inverno i consumi elettrici sono più alti e quindi la corrente costa anche di più noi usiamo i mesi invernali per fare la manutenzione e durante i mesi estivi prendiamo dati con il tempo e anche con il climate change in qualche modo anche questo sta cambiando adesso anche l'estate ci sono dei picchi di energia ma comunque è più conveniente fermare la macchina per la manutenzione d'inverno e invece fare operazioni di presa dati d'estate in quanti anni è stato costruito il tunnel e i vari esperimenti il tunnel LHC in realtà il tunnel per LHC è un tunnel precedente tra l'SPS tra l'accelatore degli anni 80 e LHC in mezzo c'è stata un'altra fase al CERN per un accelatore che non era di adroni di protoni ma era per elettroni faceva collidere elettroni e positroni ed era chiamato LEP Large Electron Positron Collider e la caverna il tunnel è stato scavato alla fine degli anni 80 per ospitare l'acceleratore LEP al termine della vita scientifica dell'acceleratore LEP lo stesso tunnel è stato riutilizzato per inserire i magneti che adesso compongono LHC invece gli esperimenti le collaborazioni scientifiche degli esperimenti sono nate come collaborazione a metà degli anni 90 la costruzione dell'infrastruttura tecnica delle caverne dei building per questi esperimenti LHC è iniziata alla fine degli anni 90 nei primi anni 2000 e tuttora come ho detto siamo in fase di upgrade continuiamo a modificare e a costruire ho letto una domanda sull'impatto sulla fisica medica però adesso non la vedo più vedo invece l'acceleratore di particella ha un impatto sull'ambiente sì se vogliamo in qualche modo siamo dei consumatori di energia da questo punto di vista ma anche qui il discorso sulla safety sulla sicurezza e anche un discorso che applichiamo all'ambiente abbiamo sistemi di monitoraggio ambientale per quanto riguarda la radioattività abbiamo sistemi di monitoraggio e controllo per i sistemi di gas l'impatto in sé non c'è un impatto per quanto riguarda la la problematica sull'ambiente ci sono problematiche che possono derivare in caso di di incidenti ma anche qui abbiamo altissimi standard altissimi standard di sicurezza che permettono anche di di non avere conseguenze sull'ambiente non so se ci sono altre domande direi di no c'è una domanda forse finale su quanto è costato il progetto tale e quanto costa mantenerlo 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 è anche il nostro lavoro costo mensile annuale per le sostanze allora partiamo dal progetto totale parliamo di CMS credo che inizialmente CMS sia costato circa mezzo miliardo di euro nella fase iniziale adesso la fase questa fase 2 che è l'upgrade che sarà poi ultimato nel 2028 per la fase 2 dell'acceleratore ha un costo di circa 220 milioni di euro il maintenance il costo di manutenzione ovviamente ci sono dei costi di operazione quindi del personale che è qui il costo dei gas che magari utilizziamo per la rivelazione di particelle infrastrutture c'è un costo anno che è a carico della collaborazione mondiale ma è abbastanza ridotto il costo annuale per le spese elettriche dipende molto dalla dalla fase in cui si trova l'esperimento noi fondamentalmente abbiamo due regimi abbiamo la fase di presa dati e la fase di stop dell'acceleratore se vogliamo dare un ordine di grandezza della bolletta del CERN negli anni in cui negli anni in cui prendiamo dati siamo dell'ordine dei 50 milioni di euro un po' meno negli anni in cui non prendiamo dati ma facciamo manutenzione e upgrade siamo la metà quindi il 50% della bolletta elettrica è dovuta all'operatività dell'acceleratore LHC e in particolare del sistema di cooling che è una delle prime fonti di assorbimento di energia e comunque il CERN ha dei contratti diciamo particolari con il gestore francese siamo appunto essendo un grandissimo consumatore di energia abbiamo dei contratti dedicati per il consumo di energia dal gestore francese l'energia prodotta a questo che a caso della crisi energetica e l'aumento dei costi di elettricità anche il CERN ha preso delle misure per limitare i costi in particolare il centro di calcolo per esempio ha ridotto la potenza il centro di calcolo ha ridotto la potenza è un nuovo centro di calcolo e in costruzione sarà completato tra un anno con sistemi green per la riduzione al 50% dei consumi elettronici elettrici un sistema innovativo appunto di areazione perché anche lì il raffreddamento dei centri di calcolo noi qui abbiamo circa 200.000 CPU che ci permettono di acquisire e manipolare i dati e controllare il CERN in generale il nostro centro di calcolo è veramente grande cosa stiamo studiando attualmente al CERN forse i professori sono anche più indicati di me per rispondere noi facciamo fisica di ricerca di base attualmente al CERN si continua a studiare il modello standard della fisica essenzialmente con l'LHC e in particolare le caratteristiche del bosone di Higgs cercando eventuali nuove particelle o nuovi stati che al momento non sono stati osservati malgrado le ricerche però ecco il bosone di Higgs è confermato e viene studiato in dettaglio si spera che nel futuro upgrade aumentando la quantità di collisioni si possa vedere qualcosa di imprevisto e quindi eventualmente affinare le teorie speriamo sempre nelle sorprese sì diciamo quello che ci piace è la sorpresa non le cose aspettate non le cose aspettate vuol dire che confermono solo ciò che già sappiamo che comunque va bene fino a un certo punto sì sì certo allora questa qua su gravitoni a un certo punto si fermeremo le domande comunque questa qua su gravitoni il CERN non è pensato per studiare la gravità perché come sapete la gravità è una forza molto più debole della forza elettromagnetica forte eccetera ci sono delle teorie che supponiono che il gravitone sia una particella stabile quindi invisibile sono state delle ricerche specifiche ma non è stato visto nulla di del genere con le particelle finora allora sulla supersimmetria sulla supersimmetria lì ci sono tutta una serie di predizioni teoriche di nuovi stati e particelle previste che non sono state osservate finora ogni volta che si acquisiscono i dati si elimina un po' di spazio in cui possono stare queste particelle però non è ancora esclusa la supersimmetria allora se non ci sono altre domande io vi saluto qui dal CERN ho superato l'ora quindi va benissimo grazie a tutti per avere partecipato vabbè gli esperimenti sì sono ecologici nel senso che si cerca di fare di tutto ovviamente per impattare pochissimo l'ambiente c'è molto di peggio ecco c'è impatta molto di più una centrale a carbone una centrale a gas qualunque altra cosa che fa l'uomo rispetto a quello che l'impronta l'impronta energetica del CERN è veramente ridotta se vogliamo parlare proprio in termini tecnici siamo veramente al minimo va bene allora io ringrazio tutti ringrazio Michele dal CERN ringrazio tutti gli organizzatori del CERN ringrazio Zoltan e Noemi che hanno partecipato il video verrà messo disponibile a breve quindi la registrazione potrà essere vista anche offline grazie a tutti e alla prossima grazie arrivederci ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti